Ciao micigatti e micegatte! Oggi voglio recensire il libro di Diego Rendini, 10 casi per Rendini, dal sottotitolo cani e gatti perché anche loro vanno dallo psicologo. Diego Rendini è medico veterinario comportamentalista, anche docente alla pet school, docente presso corsi e seminari e docente anche presso l'università di Torino e di Pisa. Si occupa a domicilio di, oltre che a domicilio da privati anche presso enti, canili eccetera, di animali che presentano delle caratteristiche del comportamento che possono definirsi patologiche, quindi che hanno problemi comportamentali. Nel caso del gatto ad esempio ci possono essere gatti che hanno problemi come lasciare i bisognini in giro per casa, oppure difficoltà a usare la lettiera, oppure episodi di aggressività anche nei cani, può succedere questo, oppure il gatto che miagola tutta la notte senza apparente motivo, insomma tutti quei problemi che magari l'umano non sa come spiegarsi e spesso viene interpellato, sono qua con Oscar e Lady che gioco, vengono interpellati i veterinari comportamentalisti perché l'umano non sa come gestire queste problematiche, quindi l'animale si vede che ha in sofferenza, ha qualche disagio e interviene il veterinario comportamentalista per cercare di risolvere queste problematiche, quindi cercare di far vivere l'animale in modo più felice possibile. Inoltre Diego Rendini accompagna anche gli umani che vogliono scegliere un cucciolo oppure un animale, un cane, un gatto, dal gattile o dal canile che vogliono sceglierlo per vivere con loro, quindi li aiuta in base alle caratteristiche che sono cercate dalla famiglia che vuole adottare, in base alle caratteristiche della razza oppure del cane oppure da come si comporta fin da cucciolo rispetto agli altri animali oppure ai bambini rispetto agli umani, insomma le caratteristiche proprio comportamentali dell'animale. Aiuta anche in questo senso i proprietari a non farsi delle aspettative che poi magari vengono disattese rispetto all'animale, ad esempio succede che alcune razze vengono presentate all'attivo in un certo modo come cani straobbedienti oppure molto di compagnia o pacciocottia e poi invece la razza si rivela o il singolo cane si rivela tutt'altro, quindi magari siamo noi umani che ci facciamo delle aspettative su una determinata razza che crediamo abbia sempre quelle caratteristiche invece poi dobbiamo basarci sul singolo carattere del cane o del gatto che vogliamo accogliere in casa. Quindi in questo libro Diego ci racconta di dieci casi che ha seguito con molta simpatia, molta ironia, quindi dieci tra cani e gatti che ha seguito ed ha aiutato a stare meglio e dei loro proprietari, quindi ci fa conoscere non solo varie problematiche può avere un cane o un gatto e come le ha affrontate ma anche il comportamento degli umani che posseggono questi animali, quindi le loro paure, le loro apprezzioni, un po' anche diciamo l'atteggiamento reverenziale che possono avere verso questo dottore che ti arriva in casa per seguire il tuo animale che spesso chiamano lo psicologo del cane, lo chiamano impropriamente psicologo, in realtà si chiama veterinario comportamentalista, diciamolo chiaramente non è uno psicologo anche se deve avere devo dire doti di empatia e anche saper capire molto bene le persone perché spesso i proprietari sono proprio coinvolti emotivamente nelle problematiche dei loro animali e quindi ci fa vedere anche la vita quotidiana di un veterinario comportamentalista che gira di casa in casa con le conseguenti difficoltà tipo problemi a trovare parcheggio oppure non si sa bene che campanello suonare o il proprietario che appena suoni dopo tre secondi ti apre perché è molto in ansia per il suo animale oppure l'ascensore che non funziona o a volte capita che viene proprio assalito da questi cani che hanno delle problematiche comportamentali quindi la vita avventurosa di un veterinario comportamentalista che deve avere a che fare con animali ma anche con a volte degli episodi simpatici tipo quando capita in una famiglia che gli offre il caffè perché ovviamente tutti quanti gli offrono qualcosa, il succo di frutta, il caffè, i pasticcini quindi anche se uno non ha voglia di mangiare oppure è strapieno boh deve accettare il biscottino della signora e il caffè di qua e la bibita di là e una volta gli capita che il suo caffè invece di essere stato zuccherato gli hanno messo il sale e quindi c'è tutto questo episodio che Diego racconta in cui mi fa anche sorridere perché viene fuori tutta la terminologia forbita del del medico che invece di dire che poi il caffè con il sale gli ha fatto venire da vomitare ci dice si usa la parola emetico quindi il noto effetto emetico del caffè e quindi questa terminologia medica e vi leggo vi leggo questa parte così vi fate un'idea del libro e quindi mentre attendo la loro risposta prendo la preziosa tazzina e portandola alla bocca inizio a bere il caffè la generosa sorsata che mi sono concesso si rivela essere un tragico evento una disgustosa sensazione si estende dalla bocca allo stomaco e nel giro di pochi secondi sopraggiunge un senso di nausea che da lì a poco avevo il timore potesse sfociare in un bel conato cioè io mi immagino la scena di Diego che sta lì nel salotto con i due proprietari marito e moglie del cane e lui così che si beve sta sorsata di caffè col sale e qua dice mi rendo conto che il caffè è stato salato anziché zuccherato purtroppo lui aveva bevuto il caffè aveva lasciato raffreddare quindi se l'è buttato giù tutto un colpo e sente che il caffè è salato quindi si tiene bene la bocca chiusa non sa come dire sta roba a marito e moglie e quindi prendo dalla mia fedele valigetta il ricettario e la penna e a caratteri cubitali inizio a scrivere ho urgente bisogno del bagno quindi il proprietario del cane lo porta finalmente in bagno e così attendo qualche minuto nel bagno per essere certo che il sale ingerito seppur in piccola quantità non provochi il noto effetto emetico ecco questo è Diego quindi molto simpatico molto carino ci sono molte parti divertenti e il libro fa anche sorridere perché dato che Diego mi ha chiesto di fare una recensione onesta e sincera e non manco assolutamente di farla perché le mie recensioni sono sempre oneste e sincera il libro fa un po' sorridere perché si vede che non è scritto da uno scrittore di libri cioè non ha quel linguaggio tipo storytelling proprio molto da scrittore si vede che è proprio scritto da una persona che fa il suo lavoro e quasi scritto come a modi diario quindi ci sono i pensieri di Dario di Diego le sue giornate e tutti i vari pensieri che gli passano per la mente quando gira di casa in casa per esempio ci sono descrive quando si preoccupa che il suo cane Zeus lascia le bave sulla finestra di casa e quindi lui deve pulire perché se la sua moglie o sua moglie si accorge di queste bave poi lo rimprovera quindi tutti questi episodi carini ed anche è molto tenero molto carina la comprensione che Diego ha per i proprietari quindi per queste persone che sono preoccupatissime per i loro animali che hanno veramente a cuore la salute e c'è Oscar qua che gioca e hanno a cuore la salute dei loro animali e quindi lui li vuole veramente sinceramente aiutare e vabbè questa è la carta è una specie di set cinematografico che ho messo vabbè orrendo quindi lui ha veramente a cuore aiutare queste persone quindi si vede proprio nel libro sia la profonda conoscenza che ha degli animali il profondo amore che ha per loro ma anche l'empatia che ha verso queste persone tra l'altro Diego è una persona di bel aspetto quindi tutte noi gattare immagino faremo anche venire dei problemi comportamentali apposta ai nostri gatti per avere un dottorino così carino che ci viene per casa ecco chiusa parentesi quindi un libro veramente divertente e anche che ci fa capire che dobbiamo conoscere la vera natura dei nostri animali perché assumono certi comportamenti e che possiamo fare molto per aiutarli a vivere meglio conoscendoli più approfonditamente soprattutto anche che possiamo avere l'aiuto di un professionista se pensiamo di non farcela oppure se siamo disperati che non sappiamo ben capire il nostro animale possiamo anche essere aiutati appunto da un professionista quindi avere anche questa possibilità io il libro me lo sono divorata in un paio d'ore di treno quindi molto molto scorrevole mi ha fatto sorridere mi ha fatto riflettere e in particolare vi voglio leggere una parte che riguarda un cane in cui viene evidenziato il conflitto che spesso si crea tra le aspettative dei proprietari di un animale e il vero carattere poi che l'animale ha perché c'è spesso questo conflitto noi ci aspettiamo magari di avere un gatto da coccolare invece il gatto è mezzo insolvatichito ci corre in giro per casa quindi siamo noi che abbiamo delle aspettative che poi vanno corrette in questa parte che vi voglio leggere diego immagina che gli animali possano parlare quindi che lui possa andare da da un animale e aiutarlo e farsi aiutare nella diagnosi facendo proprio esprimere l'animale e la sua problematica e si immagina come sarebbe se fossero proprio gli animali che che potessero parlare ed esprimere i loro disagi a voce quindi in questo caso il proprietario ha acquistato un cane un akita inu che sono quei cani del film con richard girl quello del cane acico e si vede la differenza fra quello che pensava il proprietario e quello che eventualmente potrebbe dire di sua voce diciamo il cane e quindi leggiamo questo è il proprietario che parla a volte sembra una statua e noi stiamo patendo un po questa sua chiamiamola serietà nei nostri confronti ripeto è adorabile ma non ha mai mostrato segni di aggressività ripeto è adorabile non ha mai mostrato segni di aggressività verso di noi o verso altri ogni tanto con qualche cane maschio che incontra passeggio si nervosisce ma comunque rimane gestibile e invece il cane che se invece il cane se invece fosse il cane a parlarmi probabilmente mi direbbe con l'austerità tipica di un antico samurai quindi immaginiamoci questa palla di pelo questo cane questo cane il cane acico che ci parlano immaginiamoci che potrebbe usare queste parole qua aspetta che mi sistemo così vi inquadro oscar e se invece fosse il cane a parlarmi probabilmente mi direbbe con l'austerità tipica di un antico samurai dottore innanzitutto sono onorato di conoscerla e ritengo che lei sia un elemento fondamentale per contribuire alla corretta convivenza della nostra specie con quella degli esseri umani se posso vorrei descrivere quella che a mio avviso è la situazione che si è venuta a delineare tra me e la famiglia che mi ha adottato e per la quale nutro un profondo rispetto i signori qui presenti oramai circa 18 mesi e tre settimane o sono si recarono presso l'allevamento in cui all'epoca io vivevo e in cui ero impegnato ad apprendere i preziosi insegnamenti della mia stimatissima madre Ayaka e del mio onorabile padre Atsumori i cui presenti signori dissero a colui che gestiva il nostro villaggio ossia il nostro allevatore che arrivavano da una precedente esperienza con un labrador e che adesso che questi aveva raggiunto mondi ancora più puri di quello terrestre erano intenzionati a scegliere un nuovo compagno di vita ricordo che mio padre Atsumori guardando il suo fratello il glorioso Akiro espresse in parere contrario la mia cessione ma purtroppo ma purtroppo il saggio allevatore deciso ugualmente di cedere alle richieste insistenti del mio attuale shogun e quindi mi affidò alle sue cure. Quello che accade nei giorni a seguire fu che al sottoscritto iniziarono ad essere proposte delle attività che non appartengono la mia tradizione e che pertanto in alcune occasioni assecondai per rispetto nei confronti della mia nuova famiglia ma che spesso cercai e tuttora cerco di eludere. Sento ogni tanto i miei padroni parlare di Artù, il labrador che avevano prima e che giocava in continuazione e che non stava mai fermo e che li riempiva di coccole e attenzioni. Ritengo che le loro aspettative nei miei confronti siano destinati ad essere disilluse. Non posso reggere il confronto con un immaturo e goffo labrador che probabilmente non sapeva neanche lontanamente cosa si intende per rigore e disciplina. Quindi dottore le invito cortesemente a segnalare ai miei stimatissimi signori che non essendo le mie attitudini inclini a soddisfare le loro esigenze a questo punto ci sono solamente due strade da poter percorrere. Quella dell'onorevole, quella onorevole dell'Arakiri o quella della mia incondizionata accettazione da parte loro. Faccio inoltre presente che non sono disposto a scendere a compromessi per rispetto a quelle che sono le tradizioni della mia dinastia. Le dirò di più, hanno intenzione anche di prendere un altro cane per cercare di compensare a quelle che loro ritengono inspiegabilmente essere le mie lacune. La razza scelta è quella del mio antico cugino Shiba Inu che sono certo anche egli come sottoscritto risulterà insoddisfacente agli occhi di una famiglia bramosa di avere in casa una sorta di giullare anziché un autentico samurai devoto e rispettoso. Non mi dilungo ulteriormente poiché ritengo prezioso il suo tempo e sono certo che avrà molti altri impegni. Resto a sua disposizione e con immensa stima la ringrazio dell'attenzione concessami. Ecco, quindi questo passaggio, questa parte di testo ci fa capire bene quali potrebbero essere le aspettative di questa famiglia che ha scelto questo tipo di cane e la realtà che è ben diversa, quindi la realtà delle tendenze di questa razza sono ben diverse da quelle che si aspettava la famiglia che l'ha adottato. Anche lo stesso discorso vale anche per i gatti, quindi quante volte ci aspettiamo di prendere un gatto di una certa razza perché magari pensiamo che abbia tali caratteristiche o magari un gatto lo vediamo in un certo modo quando il cucciolo e poi le nostre aspettative vengono disilluse. Quanti poi abbandonano gli animali oppure si scoraggiano perché l'animale non ha risposto alle loro aspettative. In realtà lì non è che l'animale abbia delle colpe, il più delle volte non ha colpe anche se è aggressivo, ma esprime sempre un disagio, siamo noi umani che dobbiamo capire come mai esprime questo disagio. Anche nel caso in cui ci sembra che l'animale faccia dispetti, non è così, anche un gatto che fa i bisogni in giro non ci fa i dispetti, esprime semplicemente un disagio. E siamo noi umani che dobbiamo capire come mai, visto anche che abbiamo appunto costretto l'animale a vivere con noi secondo le nostre regole. Ok, quindi anche in questo libro, ad esempio, nel penultimo capitolo si parla di Sole e Orchidea, che sono due gattine ragdoll, di proprietari molto affettuosi e molto legati ai gatti, in cui inizialmente c'era Orchidea, la prima gattina, che era la proprietaria di casa, quindi viveva già nella casa solamente lei, quindi era proprio padrona del suo territorio. E poi i proprietari decidono di affiancare Sole per farle compagnia. Spesso si fa questo ragionamento, spesso sono fuori casa, quindi do un compagno di giochi, un amico al mio gatto. Ma diciamo che non sempre è una buona idea affiancare un altro gatto al micio di casa, perché spesso, dato che il gatto non è un animale che vive in branco tendenzialmente, ma è un animale solitario, il gatto si crea il suo territorio dentro la nostra casa, è pacifico, tranquillo, noi crediamo che sia noi e che si senta solo, gli affianchiamo un compagno e lui si ritrova a dover suddividere il suo spazio con questo coinquilino e dover dividere il territorio con lui non sempre gli fa piacere. E quindi in questo caso i proprietari dei gatti chiamano Diego in loro soccorso perché i gatti si aggrediscono fra di loro, si fanno delle varie proprie lotte, si feriscono e diventano anche pericolosi perché mettersi in mezzo a due gatti che stanno baruffando è abbastanza pericoloso anche per i proprietari. Quindi lì è un problema perché alcuni proprietari poi che cosa fai se metti dentro un gatto in casa con un altro e questi qua si scannano, dove li metti sti gatti? Magari hai un appartamento anche piccolino, non fai fatica a tenerli separati? Come fai? E quindi in questo caso il veterinario comportamentalista può aiutare a risolvere la situazione con accorgimenti di arricchimento ambientale e con un programma proprio specifico per aiutare i due gatti a convivere e i proprietari ad essere più seri e tranquilli. Quindi veramente un bel libro da leggere anche per capire tante cose nuove sul comportamento del cane e del gatto, è scritto da una persona che veramente ha a cuore gli animali per cui molto molto consigliato, molto bello. Quindi 10 casi per rendini, cani e gatti perché anche loro vanno dallo psicologo. Io saluto quindi Diego, gli faccio tanti complimenti per questo libro, aspetto anche il libro nuovo che sta scrivendo perché sono molto molto curiosa di leggerlo e sono sicura che mi farà molto piacere leggerlo. Vi metto il link nella descrizione del video per acquistare il libro su Amazon, così potete vedere anche le altre recensioni. Io vi saluto cari micigatti e micegatte, seguite il mio canale YouTube, iscrivetevi alle notifiche che così vi arrivano tutti e quanti gli avvisi dei nuovi video e vi auguro una felice, felicissima convivenza con i vostri animali di casa. Vi saluto, ciao micigatti e micegatte! Ciao!